un signore qua che mangia come... io non l'ho mai visto una cosa del genere sinceramente guardatelo, eccolo, guardatelo, 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 guarda... guardate com'è? è buono! come? è buonissimo come si chiama lui? yes! questo ce l'ha regalato Cex e Arzuca e Novinello, tu che sei così bello, hai fatto il beccone? giù in prigione vale, anche con il risciacquo via, dentro e sinistro, risciacquo misto e giù ah, adesso sì ha fatto il dritto? domani dobbiamo fare l'analisi mi raccomando, digiuno e devi portare un cappello ok? il cappello lo devi mettere sombrero sombrero metti il cappello sì, quella con voi eh, porta anche i fogli che ti ha dato lo scorcherato eh i fogli? i fogli del dottore che c'era scritto che tu devi andare in Australia, capito? per stabilire chi davvero tu non hai io e l'anna in via, riprende i cosi, gli analisi che hai fatto l'anno scorso perché tu hai fatto gli analisi che in via Pia, non c'erano ma questa è scena